Mercedes-Benz classe X, via alla configurazione, il nuovo pick-up premium della casa tedesca può essere allestito in base alle proprie esigenze con prezzi a partire da 36.978 euro, presentato in anteprima mondiale due mesi fa. Il robusto pick-up ad alte prestazioni caratterizzato dalle sue doti di tenuta di strada e maneggevolezza in grado di soddisfare le diverse esigenze, sia in termini di dinamica di marcia sia come comfort di guida. Una versatili tresa possibile grazie anche all'assetto comfort con la taratura tipicamente Mercedes. Con telaio allongheroni e traverse. Asse posteriore a bracci multipli con elemento rigido. Sospensioni anteriori a ruote indipendenti e molle elicoidali su entrambi gli assi. Su questa solida base il pick-up Mercedes-Benz classe X si presenta con un design originale. Declinato in tre modelli per soddisfare tanto il leafy style con un veicolo alla moda. Quanto l'utilizzo professionale con un mezzo robusto e funzionale. Il modello di base classe X pure il pivotato al lavoro duro POIC. Secondo la casa, ha gli stessi requisiti di un cavallo da Soma. Contemporaneamente, con le sue doti di comfort e design perfetto per gli incontri con clienti o fornitori e le Attivite private, l'allestimento progressivo è dedicato a tutti quelli che desiderano un pick-up robusto ma con P. Stile e funzioni comfort, da utilizzare come immagine e biglietto da visita per la propria impresa. Foto per l'allestimento power i progettisti hanno scelto un equipaggiamento high-end che si rivolge Ai clienti che mettono in primo piano lo stile Le performance e il comfort e poter contare cose su un veicolo Sempre secondo la casa, che esce dalla massa, e si rivela all'altezza sia per gli spazi urbani Sia lontano dalle strade asfaltate Il listino nel nuovo pick-up premium Mercedes-Benz classe X parte dai 36.978 euro della versione X220 di 4Matic pure arriva ai 47.196 euro per il top di gamma X250 di 4Matic Power M.R